Musica Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite Per la previsione del negozio oggetti di domani 10 aprile 2021, ma prima di incominciare se non siete ancora iscritti iscrivetevi con la campanellina Lasciate un bel like, condividete questo video con i vostri amici e se ancora non l'avete fatto seguitemi anche su Twitch Vado in live ogni sera dalle ore 20 fino alle ore 22 e Cecchinato TV trattino basso, mi raccomando lasciatemi un bel follow Detto questo vi ricordo di commentare qua sotto tra i commenti con cosa vorrei se nel negozio oggetti, cosa pensate insomma che posso uscire domani E detto questo andiamo subito a vedere la nuova previsione per domani Iniziamo ovviamente ragazzi subito con la zona in evidenza, i primi due bundle abbiamo innanzitutto i calciatori delle squadre Ovviamente 1500 i Bucks per loro, dovrebbero secondo alcune fonti ripeto uscire tra pochi giorni, barra settimane insomma Comunque entro fine mese in teoria dovrebbero arrivare E poi abbiamo il full set delle skin default OG che costano 800 V-Bucks più ovviamente il Deltaplan Poi ragazzi abbiamo innanzitutto la skin, il set anzi degli investigatori 1500 i Bucks aggiornati con il nuovo design dovrebbero presto arrivare E poi ragazzi voglio mettere i supereroi Infatti ragazzi dovrebbero in teoria arrivare entro fine mese Quindi nei prossimi giorni, barra settimane potremmo vedere molto probabilmente questo set Ovviamente 1800 i Bucks il loro costo, insomma beh le conoscete tutti benissimo le skin dei supereroi Andiamo avanti perché poi ragazzi abbiamo le ultime due skin che sono gli scienziati da 1500 V-Bucks Ben due varianti e poi ragazzi abbiamo il set di Razor che sono le skin di un videogioco Che la versione femminile costa 1200 V-Bucks e la versione maschile 1500 Adesso incominciamo invece con la zona possibili uscite Quindi le skin bundle che potrebbero uscire sia domani o comunque nei prossimi giorni, barra settimane E abbiamo innanzitutto il set del doppio giochista, anzi il bundle del doppio giochista In tantissimi lo state aspettando e tranquilli dovrebbe arrivare in teoria settimana prossima Con la nuova patch 16.20 perché verrà nuovamente riaggiornato Perché ha ancora qualche piccolo tag, qualche bug da quello che ho capito da aggiungere Quindi da fixare e poi dovrebbe dopo qualche giorno, dopo la patch 16.20 Finalmente arrivare ovviamente sia le skin che i picconi E poi ragazzi abbiamo la skin di Corvo da 2000 V-Bucks Prossimi due skin invece ragazzi sono il Coniglio versione luminoso Che dovrebbe arrivare il full set da 1500 V-Bucks E poi metto la Renne che ovviamente non quella classica che tutti vorremmo nel negozio getti E questa versione qui rossa che costa 800 V-Bucks Poi ragazzi abbiamo innanzitutto la skin di Abstract da 1500 V-Bucks Dovrebbe molto presto arrivare insieme poi ai medici Aggiornati col nuovo design potrebbero insomma uscire in qualsiasi momento Quindi aspettiamoceli presto con il full set Vi ricordo che costano comunque 1500 V-Bucks entrambi Poi ragazzi abbiamo la skin dei Pirati da 1200 V-Bucks Anche questi li dovremmo vedere molto presto insieme poi a Omen 2000 V-Bucks Andiamo avanti perché poi abbiamo Shadow Ops L'operazione insomma segreta da 1500 V-Bucks che metto insieme alle skin del deserto 1200 V-Bucks Poi ragazzi abbiamo le skin del standardo da 800 V-Bucks Quindi full set che dovrebbe molto presto arrivare E poi insieme metto Criterion da 2000 V-Bucks Passiamo adesso ragazzi alla zona giornaliera Abbiamo innanzitutto la Soul Trooper 800 V-Bucks per lei E insieme metto la skin di Oren 1200 V-Bucks Poi abbiamo ragazzi la skin del Jonesy versione Barbone da 1200 V-Bucks Che metto invece insieme al maestro insomma del sushi la skin sia maschile che anche femminile Dovrebbero tutti e due molto presto arrivare nel negozio oggetti a 1200 V-Bucks E infine per chiudere la zona giornaliera abbiamo la skin della studentessa 1200 insieme a concentrazione Anche lei 1200 Per quanto riguarda i piccoli invece metto Ascia Borchiata da 800 V-Bucks Che dovrebbe molto presto arrivare anche lei nel negozio oggetti Per quanto riguarda i palletti metto questi qui invece raga E detto questo ragazzi noi ci vediamo in live su Twitch alle 20 Quindi mi raccomando fateci un salto Oppure domani con i prossimi video news barra previsione Bella